Allora innanzitutto benvenuti a tutti, grazie per essere qui con noi a quello che è l'esordio di un nuovo progetto nell'ambito di Giobando, Giobando quest'anno non si è mai spento, chiusa la Giobando Week si è acceso Giobando On The Go con una certa ostinazione e con l'intenzione in un momento così faticoso, così difficile per il mercato del lavoro di continuare a promuovere la cultura del lavoro, sostenere soprattutto candidate e candidate studenti e studentesse nella ricerca attiva, consapevole e competente del lavoro questo è l'esordio di un nuovo progetto, un progetto a cui teniamo tantissimo perché è la prima academy invece dedicata all'altro protagonista di Giobando che è l'azienda, l'impresa voglio rubare poco tempo in questa sessione che vuole avere un valore informativo ma anche sfacciatamente un po' formativo e vi presento chi sono i relatori di oggi partiamo con quello che è il nostro partner tecnico, il Labor Play con Manuel Olivieri Romina Masolini che ha un po' alla mente la regista di questa Giobando Academy dedicata appunto all'interlocutore azienda, entrerà più nel dettaglio, zoomerà su quella che è la programmazione della Giobando Academy, la stessa Romina e poi ringraziervi a Covino per aver accettato il nostro invito con un certo anche coraggio, visto che comunque si tratta di un progetto del tutto nuovo e questa è la prima puntata di questo progetto del tutto nuovo che appunto parteciperà portando la sua testimonianza aziendale rispetto alla tematica di oggi partiamo appunto dal processo di selezione io Romina ti lascerei subito la parola grazie Valentina e benvenuti a tutti innanzitutto diciamo che questo è appunto il frutto di un pensiero di un pensiero che ripercorre un po' tutto la strada che una risorsa fa all'interno dell'organizzazione e quindi in parallelo l'accompagnamento che l'organizzazione stessa offre alla persona, a questa risorsa si parte chiaramente dal processo di ricerca e selezione e in generale da quella che appunto è la centralità delle risorse delle persone all'interno dell'organizzazione stessa concetto che ci trova oggi più che mai allineati anche dopo l'evento pandemico e che direi ce ne ha dato ancor più evidenza diciamo che quindi nel momento in cui si parla di processo di ricerca e selezione il farlo con competenza, con professionalità ha un impatto assolutamente importante diciamo che sia che si tratti di andare a sostituire un collaboratore piuttosto che ad andare a implementare un organico con l'inserimento di nuova risorsa il selezionare con consapevolezza e competenza oggi paga, paga la professionalità più che mai e paga chiaramente a fronte di un'improvvisazione che invece molto spesso presenta poi un conto ben maggiore questo sia che la ricerca e selezione avvenga dall'interno dell'organizzazione quindi nell'ottica della crescita delle risorse già presenti in azienda dei collaboratori sia che invece si renda necessario, opportuno volgere lo sguardo diciamo al mercato esterno occuparsi diciamo con consapevolezza di questo processo di questo processo significa essere fortemente calati all'interno dell'organizzazione quindi farsi interprete non soltanto dei fabbisogni immediati del bisogno cogente ma in qualche maniera anche di avere una visione un po' prospettica di quelle che potrebbero essere appunto le possibilità, le potenzialità, le prospettive all'interno dell'organizzazione. Significa in qualche maniera andare a leggere la vision andare a farsi portavoce dei valori dell'organizzazione e tradurli poi nei parametri che consentiranno una ricerca e selezione più possibile mirata e focalizzata senza dimenticare gli aspetti importanti. Da un lato il fatto che la ricerca e selezione non termina e non si conclude con l'effettuazione dei colloqui e l'individuazione della risorsa da inserire ma che prosegue prosegue almeno per tutto il periodo di inserimento della risorsa e quindi quello che è il percorso di onboarding che l'organizzazione ha anche l'opportunità di strutturare e questo sarà tra l'altro il tema del prossimo incontro della Giobando Academy. L'altro aspetto importante da tenere in considerazione è che il recruiter mentre valuta e mentre seleziona in realtà è ambasciatore dell'organizzazione quindi è il rappresentante, colui che si fa portavoce e trasmette i valori dell'organizzazione, le caratteristiche del contesto le opportunità che l'organizzazione può offrire al candidato che in quel momento incontra e quindi in un'ottica di employer branding è chiaro che è bene che tenga presente il fatto che quel momento può essere un momento di potenziale innesco virtuoso di un passaparola piuttosto che il candidato che ha davanti potrebbe essere non soltanto un potenziale prossimo collaboratore ma anche un potenziale cliente un potenziale fornitore quindi da qui io lascio la parola appunto a Manuele e a Libia che oggi ci parleranno appunto di elementi nevragici della selezione e le soft skills da un lato e dall'altro con la sua testimonianza appunto Libia ci parlerà anche appunto dell'importanza di trasmettere un'esperienza positiva al candidato introducendolo in un mondo di valori i valori appunto dell'organizzazione quindi vi lascio la parola Manuele grazie mille di raccontarci grazie a te Romina allora buon pomeriggio a tutti e a tutte innanzitutto grazie di essere qua io vado subito proprio abbiamo poco tempo quindi provo in qualche modo a dare forma e colore e sostanza in qualche modo alle ai concetti che ha descritto in maniera cristallina mi sento di poter dire Romina giusto due parole su chi sono cosa faccio nel durante il giorno come formazione sono uno psicologo presa tezza psicologo del lavoro dal 2008 ho sempre praticato la libera professione psicologo del lavoro è una figura mitologica che non non interpreta i sogni non fa stendere le persone sul lettino ma prova a lavorare con le persone nelle aziende e ritiene che la risorsa più importante per qualunque azienda di qualunque dimensione di qualunque settore merceologico siano le persone perché tutto il resto senza le persone non funziona niente dal 2015 sono un founder uno dei cinque founder di Labor Play spin off dell'università degli studi di Firenze che si occupa di consulenza a 360 gradi in ambito HR in ambito risorse umane il mio ultimo punto che qua ho messo cioè gioco da sempre è perché continuo a giocare nonostante ormai navighi verso i 39 anni ma perché Labor Play la caratteristica di Labor Play è che utilizza strumenti game based quindi giochi e videogiochi per lavorare sulle competenze trasversali quindi per questo che molto spesso poi se mi vedete così in qualche occasione perché mi piace approfondire la materia qui ero una unconference cioè una non conferenza sui serious game quindi sui giochi che vengono utilizzati in ambito aziendale e come mi piace dire che mi prendo poco sul serio nel senso che la leggerezza intesa alla Italo Calvino quindi la capacità di vedere le cose dall'alto alleggerendosi un attimo il proprio carico di pressioni che quotidianamente tutti noi abbiamo ci può servire per vedere le cose da un punto di vista alcune volte diverso io riprendo voglio ripartire prima di poi di sentire di avere poi la perché in qualche modo Libia qui rappresenta l'azienda vera e propria quindi è per questo che ci tengo a lasciare un doveroso spazio a una testimonianza diretta perché in qualche modo io soprattutto Romina Meno però io sono un po' di parte perché sono un consulente esterno alle aziende quindi è ovvio che tiro come si suol dire l'acqua al suo mulino però ecco è per questo che abbiamo voluto insieme agli amici di VUIN anche una testimonianza aziendale però prima di lasciare la parola a Libia volevamo in qualche modo creare un terreno comune creare un linguaggio comune all'interno di tutti noi perché in qualche modo si sente tanto parlare di alcuni termini però poi all'atto pratico poi non sappiamo esattamente di cosa stiamo parlando come diceva il regista le parole sono importanti e quindi anche per raccontarvi un po' che ci sono anche dei modi di stare diversi sia in azienda sia in formazione e anche in selezione come scopriremo quindi vogliamo partire da un punto di partenza un po' che per alcuni dici ma Manuele ma sei pazzo? Cosa c'entra questo team? Questo team per chi non lo conoscesse è la compagnia dell'anello è il protagonista principe della prima trilogia del film di Peter Jackson del Signore degli Anelli che proprio quest'anno tra l'altro compie 20 anni quindi nel 2001 io sono cresciuto un po' con questo film che poi ha vinto 11 premi Oscar all'ultimo della trilogia e vi vorrei far vedere quindi sarà io proverò a creare questi 20 minuti in maniera abbastanza interattiva per quanto possibile vi vorrei far vedere uno spezzone del film del Signore degli Anelli il primo si chiama proprio la compagnia dell'anello non è importante conoscere la storia per chi non lo sapesse l'ospezione che vi farò vedere è una riunione che viene convocata dal re degli Elfi che si chiama re Elrond al quartier generale dell'impero degli Elfi che è il Gran Burrone dove fondamentalmente le tre etnie gli Elfi gli umani e i nani ci sono anche gli Hobbit rappresentati da Frodo devono andare a distruggere l'anello quindi l'obiettivo di questa riunione è decidere chi dovrà andare a distruggere l'anello ok? quindi immagino che molti di voi abbiano queste riunioni dove c'è un gruppo di persone che deve prendere una decisione deve raggiungere un obiettivo quindi secondo me la metafora con il mondo lavorativo non è così molto distante è ovvio che siamo in un ambiente fantasy ma ci piace anche un po' prenderci anche strapparci un sorriso vi faccio vedere questo spezzone di film che dura veramente pochi minuti e poi vi farò una domanda l'anello fu forgiato tra le fiamme del monte Fato solo lì può essere annientato deve essere condotto nel paese di Mordor e va ributtato nel baratro infuocato da cui è venuto uno di voi deve farlo non si entra con facilità a Mordor i suoi cancelli neri sono sorvegliati da più che meri orchi lì c'è il male che non dorme mai e il grande occhio è sempre allerta è una landa desolata squassata da fiamme cenere e polvere l'aria stessa che si respira è un'esalazione velenosa neanche con diecimila uomini sarebbe possibile è una follia non avete sentito ciò che ha detto Ray Herond l'anello deve essere distrutto e suppongo che pensi che sarai tu a farlo e se falliamo cosa accadrà cosa accadrà quando Sauron si riprenderà ciò che è suo sarò morto prima di vedere l'anello nelle mani di un elfo è un'esalazione velenosa non è solo si riprendi un elfo non è solo si riprendi un elfo non è solo mentre mi sentiamo credo potere di Sauron si accreggio non è solo si riprendi un elfo lo porterà io lo porterà io porterò io l'anello a Mordor solo non conosco la strada ti aiuterò a portare questo fardello Frodo Baggins finché dovrai portarlo se con la mia vita o la mia morte riuscirò a proteggerti io lo farò hai la mia spada e hai il mio arco e la mia ascia reggi il destino di tutti noi piccoletto se questa è la volontà del consiglio allora Gondor la seguirà ehi padron Frodo non si muoverà senza di me no certo è quasi impossibile separarvi anche quando lui viene convocato ad un consiglio segreto e tu non lo sei ehi veniamo anche noi dovrete mandarci a casa legati in un sacco per fermarci comunque ci vogliono persone intelligenti per questo genere di missione ricerca cosa ma così ti autoescludi Pipino nove compagni e sia voi sarete la compagnia dell'anello grandioso dov'è che andiamo eccomi qua allora questo era uno dei momenti anche tra l'altro più epici del primo film proprio il momento della nascita della compagnia dell'anello però quello che vi chiedo adesso se vi va potete utilizzare anche qui è per farvi conoscere anche i nuovi strumenti questa si chiama un'applicazione che ha avuto un boom incredibile molti di voi magari la conosceranno durante la pandemia si chiama Mentimeter se prendete e agguantate uno smartphone scansionate il QR code o attraverso il vostro browser vi collegate a www.menti.com e inserite questo codice numerico 90756419 venite catapultati direttamente sulla piattaforma e potete rispondere alle domande quindi è un modo per interagire anche in gruppi molto numerosi e porre delle domande alla platea la domanda che io vi pongo è cosa quali competenze avete visto agire in questa dimensione in questa situazione perché vi ripeto secondo me è vero è una spezzone di un film fantasy è una spezzone di un film di fantasceni secondo alcuni non è un discorso di critica cinematografica è una situazione ovviamente leggera che però secondo me fa fare un po' di riflessioni se letta sotto un certo occhio quindi vi chiedo o di rispondere anche tramite la piattaforma qui in alto trovate sempre il codice e la modalità per accedere alla piattaforma oppure se non avete modo di utilizzare uno smartphone potete anche scrivere in chat oppure ancor meglio potete anche smutarvi e intervenire dalla vostra viva voce perché è sicuramente una cosa molto più molto più interessante e qui come vedete piano piano arriveranno a schermo le vostre le vostre risposte la domanda è quali competenze avete visto agire o non agire in questa scena e da chi perché insomma questa scena si divide in due grandi slot la prima slot dove prima dell'intervento di Frodo che è il lobbyt che decide di andare e dice lo faccio io c'è una certa situazione generata da a mio avviso da una non agire di certe competenze da parte dei protagonisti e poi una seconda parte che dal momento in cui agisce Frodo qualcosa cambia completamente il contesto cambia e succedono altri tipi di cose allora vediamo agire Frodo leadership senso di responsabilità impegno coraggio responsabilità inizialmente mancanza di fiducia nella squadra coraggio e intraprendenza delle nuove leve agire confronto non agire mediazione e coordinamento l'egoismo delle razze stava distruggendo la compagnia ancora prima dell'inizio del viaggio questo verissimo e credo che molto spesso questo sia un tema aziendale quando l'egoismo magari di alcune funzioni o di alcune aree di un'azienda possono andare a creare situazioni di conflittualità molto forti all'interno dell'intera azienda penso soprattutto banalmente anche a un'azienda di produzione un'azienda anche con magari aziende che hanno una forte vena industriale di produzione di un bene quanto sia tradizionalmente molto forte l'ascissione tra il mondo della produzione e tutto il resto team working capacità di delegare la responsabilità ottimo ci sono un sacco di cose ottimo quello che a me sorprende sempre è la figura di Frodo di questo spezzone cioè che molti di voi sicuramente hanno parlato di responsabilità di leadership di agire però Frodo non è l'emblema del leader tra virgolette classico che solitamente abbiamo noi in mente è quella persona che è in grado di leggere quella persona che è in grado di ascoltare quella persona che è in grado di porre le questioni in un modo assertivo è quella persona che poi genera un comportamento virtuoso perché poi se ci avete fatto caso se va Frodo arrivano altre tre risorse arrivano Marriott arrivano Pipino arriva Vise Genji cioè gli altri tre hobbit che si uniscono alla compagnia rendendola più forte e più numerosa quindi dei comportamenti virtuosi di una persona va a rafforzare l'intero gruppo quindi se noi fossimo stati in selezione aver selezionato Frodo avrebbe fatto una differenza abissale tra averlo selezionato e averlo scartato e da un punto di vista forse delle hard skills Frodo e non era mica così tanto messo bene perché Frodo cioè ora non voglio entrare nel mondo nerd del Signore degli Anelli però rispetto a dei guerrieri rispetto allo stregone rispetto anche al buon Gimli il nano che aveva tutta una serie di hard skills importanti e povero Frodo era un semplice hobbit una semplice persona che viveva in un luogo sperso del mondo e che non non aveva tutte queste competenze tecniche ma aveva in questo momento in quel modo ha espresso un set di competenze trasversali assolutamente adatto al contesto ed è per questo che noi focalizziamo molto l'attenzione sulle competenze trasversali perché ormai la letteratura di riferimento è abbastanza d'accordo sul dirci che sono delle competenze che possono fare la differenza e le competenze trasversali sono per semplicità le potete racchiudere in tre grandi famiglie competenze cognitive quello che sta qua nella nostra testolina la capacità di risolvere problemi l'analisi la visione strategica le skill relazionali quindi il fatto di relazionarsi con gli altri comunicare in maniera efficace saper ascoltare saper supportare provare anche un livello empatico quindi stare nella relazione con l'altro e poi quelle operative le nostre braccia la determinazione l'energia l'entusiasmo la motivazione il fatto di non mollare ai primi ostapoli queste sono tre grandi famiglie in letteratura ce ne sono 20.000 di modelli per una questione di sintesi io ve le ho sintetizzate in queste tre grandi macro categorie che ne racchiudono tantissime ce ne sono decine di competenze trasversali però quello che vorrei che arrivasse è che ovviamente non ci sono competenze migliori rispetto ad un'altra cioè una competenza migliore rispetto ad un'altra scusatemi è un po' come chiedere ma scusa Manuele è più bello il blu o il verde? dipende cioè è una domanda che non ha un grosso senso di per sé in termini assoluti dipende dal in termini relativi quindi l'altra domanda che in qualche modo ci siamo posti no? quindi le competenze trasversali sono quelle cose che mi permettono di stare insieme agli altri come abbiamo visto prendendo spunto dal signore degli anelli non dobbiamo sottovalutarle perché sempre di più fanno la differenza all'interno della performance lavorativa quindi proprio a monte selezionare un frodo o non selezionarlo beh la storia cambia perché senza frodo probabilmente quel quel quell'anello non sarebbe stato distrutto alcuni dicono senza 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 però qui ora entriamo nella questione del cinema però una volta ok le competenze importanti le competenze trasversali sono importanti ma come faccio a capire quelle che sono importanti per me perché questo è importante non esistono delle competenze trasversali che possano andare bene per ogni azienda ogni azienda è unica e ripetibile e ogni azienda deve fare un'analisi di ciò che di quello che lui di quello che ha bisogno viene chiamato modello di competenze cioè cercare di mettere insieme di andare a identificare quelli che sono un po' i comportamenti predittivi cioè quelle competenze che secondo noi stanno dietro dei comportamenti predittivi della prestazione lavorativa quindi se a me serve faccio un esempio se volete un po' banale e scontato ma almeno ci capiamo cioè nel senso se io sto cercando una figura commerciale ok cioè cerco una figura commerciale che tipo di comportamenti deve avere questa figura commerciale che tipo di commerciale di operatore commerciale mi immagino deve essere una persona che sta a contatto con gli altri in che modo deve gestire la relazione in che modo deve anche avere dei comportamenti di organizzazione del lavoro oppure è soltanto in relazione con l'altro quindi se io mi vado a individuare i comportamenti che lui deve mettere in atto posso arrivare poi a che tipo di competenze deve avere e quindi mi vado a creare un modello di competenze per quella figura e poi dal modello di competenze ok queste competenze per me sono importanti sono quelle che fanno veramente la differenza all'interno del lavoro che questa persona dovrà andare a fare questo lo possiamo fare perché noi conosciamo la nostra azienda conosciamo quel ruolo se non lo conosciamo lo andiamo a chiedere lo andiamo a chiedere a chi quel lavoro lo fa o lo ha fatto o chi quella persona che dovrà gestire quel ruolo e provo a capire insieme a lui ok ma senti ma questa persona esattamente ma cosa deve fare come lo deve fare quindi mi devo fare delle domande ovviamente la professione che rappresento è una professione fatta di domande nel senso che noi partiamo dalle domande perché poi le risposte vanno costruite assieme quindi se io parto da un'analisi del ruolo da un'analisi di quello che questa persona può fare deve fare in certi versi allora posso andare come il salmone indietro andare a ricostruire quelle che sono le competenze che a me servono e qui vi ho riportato appunto questa tripartizione di comodo tanto per capirci tra cognitiva relazionale e realizzativa ovvio signori signore tutti lo vorremmo bello alto biondo gli occhi azzurri elegante scicchettoso che non ha problemi parla sette lingue cioè che abbia è ovvio qui non è possibile che una persona abbia tutte queste competenze sia soft che hard quindi qui noi abbiamo messo attinenza e parsimonia cioè nel senso che dobbiamo fare una una priorizzazione cioè quali sono quelle più importanti noi di solito consigliamo soprattutto nelle prime circostanze di partire da un set abbastanza ristretto di competenze trasversali cominciamo a piccoli passi Roma non è stata fatta in un giorno tre quattro cinque esagero sei proprio a dir tante focalizziamo l'attenzione su quelle principali quelle che veramente non possiamo farne a meno perché è ovvio che dovrebbe far tutto soprattutto in un mondo del lavoro nel quale ormai essere avere più competenze è all'ordine del giorno facciamo lavori estremamente variegati estremamente complessi però focalizziamo l'attenzione su quelle che veramente non possiamo non non avere e io qua vi avevo messo quelle che secondo il World Economic Forum nel 2020 sarebbero state le le competenze trasversali più richieste poi ovviamente ora c'è arrivata la pandemia e ha velocizzato a mio avviso non è che ha cambiato molto i trend del del mercato del lavoro li ha semplicemente velocizzati gli ha dato una spinta un'accelerazione infinita ma queste sono le competenze trasversali sul quale sempre di più si va in qualche modo a a ragionare a riflettere andare a cercare a prendere in considerazione quindi si va dal dal problem solving il pensiero critico la creatività intesa come pensiero laterale il fatto di risolvere problemi in un modo diverso da quello che si faceva precedentemente competenza assolutamente centrale gestire le persone il coordinarsi con gli altri l'intelligenza emotiva la capacità di stare in contatto con gli altri di riconoscere le emozioni come vedete si sta sempre andando di più verso una figura sempre meno esecutiva sempre meno operativa e sempre più di gestione di coordinamento perché ovviamente l'intelligenza artificiale le nuove tecnologie ci aiutano in tantissime task ma la decisione finale per adesso è sempre in testa un essere umano la macchina deve essere sempre gestita da un essere umano deve essere sempre detto cosa fare da un essere umano e questo essere umano è in relazione con altri esseri umani e quindi è per questo che c'è bisogno di una persona che sia maggior proattiva che abbia anche una capacità decisionale di un certo tipo che stia a suo agio nel problem solving nella risoluzione dei problemi e come posso valutare? Beh come posso valutare ci sono tantissimi modi io qua vi ho messo un po' l'evoluzione della selezione cioè siamo partiti da dall'intervista la intervista strutturata che è sempre e sempre rimane comunque sia un passaggio quasi fondamentale nel corso dei decenni del novecento si sono andati a unire moltissimi strumenti test psicoattitudinali test motivazionali test di performance business case business game chi più ne ha più ne metta però quello che a me premeva e qui l'ho già chiusa con un cabinato arcade con Pacman è che ci dobbiamo rendere conto che è già entrata in realtà nel mondo del lavoro è entrata sono entrati loro sono entrati millennials ormai già da un pezzo io sono millennials per rotto della cuffia millennials sono i nati fino ai primi anni ottanta poi abbiamo la generazione Z che sono quelli nati fino ai fini anni novanta tra poco arriveranno la generazione alfa quelli nati dai primi anni duemila in poi la generazione Z che sono i veri nativi digitali perché io non sono un nativo digitale neanche quelli nati nell'ottantanove o nel novanta perché noi siamo nati ancora pre diciamo pre pre internet pre smartphone pre tutto hanno dei un linguaggio un modo di intendere il lavoro completamente diverso il tema del ricambio generazionale c'è sempre stato e sempre ci sarà non voglio dire frasi fatte però vi invito a riflettere da osservatore esterno che ci sono dei forti cambiamenti da un punto di vista anche strumentale la velocità è completamente cambiata la curva banalmente insomma il modo di fruire di alcuni contenuti è completamente cambiato non possiamo pensare di adottare di interfacciarsi con queste nuove risorse che sono la classe dirigente del futuro con gli strumenti di vent'anni fa perché cosa che con me è stata fatta è una partita persa perché loro non ci stanno loro hanno bisogno di un'integrazione totale e completa tra il mondo del lavoro e la loro vita personale hanno dei codici valoriali completamente diversi da quelli delle generazioni precedenti parlano in modo diverso hanno una curva dell'attenzione completamente diversa ormai sapete benissimo i video su qualunque piattaforma web ha una visualizzazione di pochi secondi leggono pochissimo hanno bisogno di vivere delle esperienze più che dei contenuti quindi questo porta a un cambiamento radicale di come le aziende si interfacciano con queste persone perché le aziende hanno bisogno di loro perché le aziende hanno bisogno di avere al loro interno la linfa del futuro loro sono il futuro e a mio avviso dal mio punto di vista quindi assolutamente un punto di vista infinitesimale molte aziende ancora non non si sono rese conto di questo di quanto sia importante dedicare attenzione al tema della selezione di che tipo di esperienza facciamo vivere alle persone quando le selezioniamo quindi è per questo che io vi ho messo anche poi il discorso del gaming però qui siamo già in una fase evoluta poi magari ne parliamo se abbiamo tempo in chiusura perché voglio lasciare spazio a Libia però ecco il come valutarlo secondo me va molto in linea con qual è il mio target con chi ho di fronte non c'è uno strumento giusto è uno sbagliato assolutamente no però è ovvio che in un processo di selezione rivolto soprattutto a un target giovanile la mia attenzione il mio consiglio personale e professionale è quello che facciamo attenzione a chi abbiamo di fronte se abbiamo di fronte queste persone questi giovanissimi giovanissimi che ora giovanissimi sono neolaureati fondamentalmente dobbiamo trattarli in un certo modo ma non perché dobbiamo diciamo in qualche modo ingraziarceli ma perché altrimenti risultiamo non efficaci semplicemente in termini di efficacia della nostra azione del nostro effort perché rischiamo di perdere tempo altrimenti anche perché se prima pensavamo che è l'azienda che sceglie il candidato e oggi su questo non non sono così tanto sicuro è sempre stato bidirezionale per carità di Dio non è che uno aveva una pistola alla tempia la vita alla morte però ecco i giovani la nuova generazione ha un potere percepisce il lavoro in un modo completamente diverso quindi questo è un po' il mio contributo che volevo dare a tutti voi ringrazio Stefano che intanto si deve staccare e volevo lasciare un po' la parola a Lidia per un po' con questa domanda in sospeso però ovvio Lidia se presentati pure perché non è non è detto che tutti ti conoscano che soprattutto non conoscano poi la tua realtà nel quale lavori Florence Consulting Group Libia è l'Ishar Manager di una realtà molto interessante tra l'altro Toscana diciamo almeno l'headquarter perché come vi dirà insomma è una realtà molto importante che è sparsa su tutto il territorio nazionale e io dopo come la ecco la domanda che ti faccio perché so che hai avuto un 2020 nel quale non ti sei annoiata mettiamola così in senso positivo la domanda un po' provocatoria che ti faccio è vale la pena secondo te investire del tempo perché noi l'abbiamo messa giù facile io e Romina bisogna parlare di queste cose però poi ci racconterai anche dal tuo punto di vista che forse così facile e semplice non è soprattutto all'inizio quindi insomma lascia a te il microfono con questa suggestione tanto poi ci sono qui e poi vediamo anche se ci sono spunti dal pubblico se ci sono domande o interventi benvenuti a te Libia perfetto allora grazie buon pomeriggio a tutti come diceva Manuele io sono Libia responsabile risorse umane di Florence Consulting Group allora mi piacerebbe appunto presentare un po' l'azienda e la realtà in cui lavoro perché poi si capisce anche un po' il come gestiamo il la parte di selezione delle risorse umane perché abbiamo scelto un determinato modo di selezionare nuovi talenti o comunque nuove persone che vogliono entrare a far parte della squadra allora come dice il nome stesso la Florence è un'azienda di consulenza informatica siamo un'azienda di servizi abbiamo la sede principale a Sesto Fiorentino e altre tre sedi Milano, Torino e Cosenza la Florence è riconosciuta direi molto nel panorama dell'informatica come una boutique tecnologica questo perché rispetto ad altre realtà aziendali molto simili alla nostra abbiamo scelto gli ambiti di cui occuparci e soprattutto i clienti a cui dare il nostro supporto noi abbiamo clienti di grandi dimensioni molte grandissime realtà italiane e adesso ci stiamo prendendo anche all'estero che ci contattano perché hanno un problema informatico ovviamente da risolvere perché vogliono passare ad una nuova tecnologia o semplicemente facilitare quelli che sono i processi aziendali abbiamo scelto determinati ambiti facciamo crescere i nostri dipendenti formandoli in continuazione rendendoli specialisti sul territorio nazionale l'azienda è in forte crescita quindi l'ufficio risorse umane è di sicuro un ufficio chiave all'interno della Florence per due motivi fondamentali sicuramente per attrarre nuovi talenti e quindi fargli entrare nella nostra squadra ma anche per mantenere e fidelizzare ancora di più quelli che sono con noi dall'inizio di questa avventura il mondo dell'informatica è un po' particolare nel senso che per fortuna è un settore in continua crescita in continuo divenire è veramente difficile trovare persone che hanno intrapreso questo percorso di studio o comunque professionale senza lavoro sono molto richiesti le aziende se li rubano i recruiter li aggrediscono con tante richieste tante richieste di contatti e quindi la difficoltà principale è quella di trattenerli all'interno del proprio contesto aziendale quindi come facciamo allora intanto la Florence ha un ufficio risorso malinterno e questo è molto importante riprendendo anche quello un po' che diceva Emanuele prima essere all'interno e quindi riuscire a trasmettere quello che si vive qui dentro e quello che si andrà a fare qui dentro di sicuro è un elemento che incuriosisce e che attira soprattutto i giovani i giovani in questo periodo sono il bacino più difficile da attrarre perché come dicevo prima trovano subito vogliono diventare subito nerd subito informatici all'ultimo dell'ultimo grido e quindi anche un po' per attitudine cercano quelle che sono le aziende più rinomate quelle più conosciute vogliono andare via quindi Milano per esempio è una piazza molto richiesta la Toscana viene già vista con un bacino un pochino più di nicchia e quindi sono quelli su cui bisogna lavorare maggiormente per poterli attrarre e quindi per farli entrare da noi cosa offriamo per dare per attirare queste persone e quindi poi farle restare che è la cosa ovviamente che ci interessa di più di sicuro l'ambito tecnologico quindi il fatto di avere tecnologia all'avanguardia essere partner anche europei di prodotti per l'integrazione software per la digitalizzazione dei processi aziendali e quindi primi sul territorio italiano con la possibilità di diventare specialisti sicuramente è un valore aggiunto perché notiamo come ormai non basta più essere un semplice sviluppatore un programmatore ma essere specialista di qualcosa e quindi riconoscibile sicuramente è un trampolino di lancio preferito rispetto all'essere appunto come dicevo prima un semplice programmatore noi lavoriamo molto su questo quindi oltre ad offrire un ambito sfidante un ambito all'avanguardia raccontiamo l'azienda raccontiamo raccontiamo come è nata raccontiamo come si vive qual è il clima aziendale la Florence è un'azienda molto giovane la direzione è sui 40 anni e la maggior parte dei dipendenti spaziano dagli anni 2000 95 96 2002 quindi sono ragazzi molto giovani e quindi con maggiore attenzione riservata a loro per poterli far crescere secondo le loro aspettative e soprattutto creare loro un ambiente che sia favorevole e poi a farli restare il più tempo possibile durante i nostri colloqui di selezione a parte ovviamente partire dalla parte hard perché anche il ragazzo appena laureato appena diplomato che ovviamente non ha un'esperienza lavorativa deve avere delle caratteristiche che poi effettivamente si allineano con quello che è il contesto aziendale quindi ragazzi proattivi ragazzi con grande voglia di crescere con grande voglia di imparare con l'umiltà di capire che alle spalle si ha solo un percorso di studi e che poi il lavoro è un'altra cosa quindi affidarsi completamente a persone che già fanno lavoro da tanto tempo e prenderli proprio come punto di riferimento per poter crescere ed effettivamente poi inserirsi nel mondo del lavoro in maniera costante e professionale noi facciamo questo quindi gli raccontiamo un po' come si vive all'interno dell'azienda come effettivamente cioè su cosa andranno a lavorare e soprattutto come dicevo prima chiediamo che cosa vuoi fare da grande questo è un'apertura dell'azienda perché sin da subito anche dal primo colloquio con le risorse umane quindi non è detto che poi la selezione andrà a buon fine lasciamo un ottimo ricordo cioè tutti pensano di noi che diamo tanta attenzione alle persone perché per chiedere nel chiedere che cosa vuoi fare da grande già si percepisce la disponibilità dell'azienda a fatti crescere secondo le aspettative e un ragazzo giovane in particolare però vedremo che poi questo discorso vale anche per il super senior che dopo vent'anni vuole cambiare azienda perché è stanco del contesto che ha vissuto fino a questo momento sapere che c'è un'azienda che dà attenzione a quello che effettivamente uno vuole fare da grande bastate mille virgolette ti predispone sicuramente meglio e chiaramente se poi il percorso che ci raccontano è in linea con quello che noi possiamo offrire all'interno dell'azienda questo poi effettivamente avviene quindi si parte con un processo di onboarding di inserimento di affiancamento che poi nel corso del tempo porterà a quelle che sono le aspettative della persona questo perché perché è vero che poi nel corso del tempo possono cambiare però lo si predispone già in maniera proattiva una persona sa che l'azienda è disposta a farlo crescere per come gli piacerebbe fare e quindi lavora anche più facilmente più agevolmente e con più voglia di lavorare all'interno di Florence stamattina parlavo con uno dei nostri dipendenti al quale è stato dato un premio per il lavoro per la serietà e per la bravura che sta dimostrando quotidianamente sui progetti su cui è stato messo e lui ha detto una cosa molto importante ha detto io lavoro così bene perché mi sento a casa cioè io la mattina sono felice di alzarmi venire a lavorare perché so che trovo un team di grandi professionisti di persone che mi ascoltano di persone che mi danno la giusta attenzione anche se io sono quello più junior più dentro quindi sono quello che deve fare la gavetta il mio responsabile è come un babbo un punto di riferimento e so che se ho un problema mi posso rivolgere a lui e quindi non ho neanche quell'atteggiamento di tenermi tutto dentro e quindi puoi sbottare perché so che posso confrontarmi all'interno dell'azienda e quindi so che qualcuno mi può venire incontro se ho delle difficoltà noi ad esempio facciamo molta job rotation all'interno dell'azienda proprio per questo motivo perché magari diamo delle prospettive alle persone che entrano con noi che possono durare per un po' di tempo poi può succedere che la persona non è più stanza non ha più voglia di vedere quel contesto ha voglia di vedere dell'altro ha voglia di crescere e quindi noi facciamo in modo con chiaramente le tempistiche previste di poterlo spostare perché non è utile a nessuno obbligare una persona a lavorare su una cosa specifica o solo su quello poi non ci sono alternative le alternative ci sono e quindi cerchiamo sempre di andare incontro alle persone e quindi di ingaggiarle nel miglior modo possibile questo atteggiamento ripaga noi siamo nell'ultimo anno cresciuti tantissimo stiamo continuando a crescere e come dicevo prima la parte soft è molto molto importante qui è importante saper stare in team saper lavorare con gli altri essere proattivo essere smart sapersi insomma come dire saper levare le castagne dal fuoco quando è necessario e con il giusto atteggiamento e la giusta attenzione dell'azienda nei confronti dei dipendenti questo avviene facilmente quindi le competenze trasversali che diceva Emanuele e quindi quella parte soft non è è parte fondamentale di un processo di selezione va bene la parte tecnica vanno bene le hard skills però la persona è importante noi andiamo molto anche sui clienti la nostra faccia è sempre visibile sui clienti e abbiamo anche diciamo così elaborato un metodo di comunicazione particolare quindi uno stile comunicativo che ci piace poi trasmettere anche ai nostri dipendenti quindi viene fuori dall'inserimento in Florence e quindi da tutto il processo di formazione una persona a 360 gradi quindi un professionista ma anche una persona che poi viene apprezzata e questo ripaga sicuramente nel corso del tempo Silvia che si deve staccare ti scrive vi ringrazio molto interessante soprattutto la testimonianza aziendale spero si possa approfondire il tema del non boarding tra l'altro confermi Romina che mi sembra sia uno assolutamente sì il prossimo il prossimo il mese prossimo parleremo proprio di questo e non a caso l'abbiamo agganciato in quest'ottica di percorso da fare da fare insieme infatti anche Libia anche con lei quando ci siamo confrontati rispetto a questo incontro in realtà è stato naturale ci siamo proprio scivolati dentro anche al tema dello boarding che di fatto è un tutt'uno con il processo di ricerca di ricerca e selezione e appunto con l'ottica di valorizzazione della persona all'interno dell'organizzazione anche proprio in chiave di un come dire mettere a frutto efficientare questi processi il più possibile e accelerare anche i tempi di inserimento della risorsa e di conseguenza anche di valorizzazione di quel valore aggiunto appunto che la persona porta perché se poi viene individuata e inserita evidentemente perché porta in sé quel talento o comunque degli elementi che l'organizzazione cercava quindi il metterli a frutto più velocemente molto spesso non è legato soltanto alla fase di reclusamente selezione ma molto spesso e questa volta ci si sorvola invece è veramente molto importante il fatto che poi il terreno in cui si impianta sia poi profigo e sia favorevole e sia appunto di nutrimento anche per la risorsa perché questa possa il prima possibile insomma crearsi un senso di appartenenza o un piacere di stare in quell'organizzazione e quindi dare il meglio di sé sì no infatti l'hashtag che utilizzerei per il contributo di Libia è sicuramente crescita cioè nel senso che hai sottolineato e mi fa strapiacere perché è un tema a me molto caro che già in una fase di selezione quindi praticamente che giove non si sa niente se poi andrà bene o andrà male la cosa quanto comunque lato azienda si possa sottolineare questo aspetto che molto spesso non voglio fare l'idealista il romantico è ovvio che si lavora per ricevere la gratificazione materiale dello stipendio e del denaro e questo lo sappiamo tutti però non dobbiamo sottovalutare questo aspetto perché io mi piace molto l'etimologia delle parole tra l'altro è anche nel nome della mia azienda lavoro deriva dal labor latino che significa fatica che significa durare fatica quando si lavora tendenzialmente però sempre di più questo concetto sta un po' sfumando nel senso che sempre di più e Libia lo ha sottolineato il mio potesto parere dal mio punto di vista cioè come all'interno del lavoro si possa crescere si possa sviluppare si possa effettivamente come diceva lei io voglio diventare lo sviluppatore nerd e il Florence Consulting me non permette questo ok allora rimango qui perché io sono nel cuore di Libia perché so benissimo quanto sia difficile poi una volta trovata una risorsa nel loro mondo nel mondo IT magari tra di voi ci sono colleghi che lavorano nello stesso settore di Libia quanto sia difficile trattenere queste risorse sono risorse estremamente scarse che magari poi le formiamo su un particolare ambito e poi dopo un anno magari per x motivi magari le perdiamo quindi quanto è importante come diceva Libia creare un ha parlato di clima ambito sfidante raccontare l'azienda è una cosa fantastica secondo me raccontare l'azienda cioè proprio dire cosa è come si sta qua no sembrano banali banalità io veramente però secondo me molto spesso il rischio è che le diamo un po' per scontato no perché magari poi siamo in azienda da un anno poi diventano due diventano cinque diventano dieci e quindi iniziamo a far parte di quell'azienda interiorizziamo quell'ambiente ma ci dimentichiamo che la persona che arriva è la prima volta che mette piede nella nostra azienda e siamo noi a doverli rappresentare un po' come si fa quando un ospite arriva in casa nostra e gli facciamo vedere cioè gli mettiamo tutto a posto e gli facciamo vedere le stanze tutte belle ordinate pulite gli raccontiamo il valore aggiunto della nostra azienda dobbiamo essere orgogliosi no ma non tanto vi ripeto in un'ottica manipolativa ma come diceva Libia secondo me per dare la possibilità alle persone di esprimere il proprio potenziale perché è questo quello che viene fatto all'interno di un processo di selezione trovare la persona che sta bene con me un po' come se fosse una relazione un fidanzamento in qualche modo senti Libia ti volevo fare una domanda se ci sono anche domande tra di voi alzate la mano scrivete in chat vi diamo la parola anzi sarebbe molto bello però mi viene una domanda se tu dovessi dare tu hai parlato che avete avuto un forte aumento di lavoro e anche quindi di risorse a una persona un tuo collega che magari è in una situazione un po' analogo alla tua che da piccola azienda sta iniziando a diventare sempre più grande sempre più strutturata e lui dice o lei cavolo ma da dove parto perché è un po' quello il problema fare il primo passo nella tua esperienza qual è stato secondo te la prima cosa che ti ha veramente che ti è servita in fare questo percorso poi di andare a strutturare anche magari un ufficio un po' più interno quindi che gestisci tu dalla dalla alla z quindi secondo te qual è il punto di partenza che ti va di di condividere con che nel tuo caso è servito perché ribadisco non siamo qui non abbiamo la la verità in tasca però magari attraverso la condivisione riusciamo a dare degli spunti interessanti se ti va a Libia ok allora diciamo che nel mio caso è stato abbastanza semplice nel senso che allora l'azienda è molto tecnica è molto specifica e proprio per questo motivo la selezione in Florence è molto difficile se guardiamo il numero dei colloqui che facciamo rispetto poi alle persone che entrano c'è un divario veramente molto molto ampio questo perché perché appunto facendo una valutazione a 360 gradi e non valutando solo che quella che è la parte tecnica è molto difficile trovare un profilo che possa unire tutti e due gli aspetti che poi effettivamente interessano quindi il punto di partenza sicuramente è stato quello di studiare l'azienda capire com'è fatta l'azienda capire quali sono le persone che effettivamente lavorano all'interno dell'azienda per non sparigliare le carte un po' come si dice ma partire da quello che c'è perché tutto quello che viene è tutta integrazione quindi trovare e cercare degli elementi che inseriti in un contesto già oliato in un contesto già organizzato potessero dare un valore aggiunto e non creare problemi o disallineamenti quindi io sono partita in sordina studiando un po' quello che era appunto la volontà della direzione gli obiettivi che volevano raggiungere e il percorso che volevano intraprendere e di conseguenza ho capito anche a livello proprio attitudinale quali potessero essere le persone più adatte al nostro contesto raggiungo che in un periodo di pandemia quindi periodo che abbiamo che stiamo vivendo ma l'anno scorso sicuramente eravamo in una situazione ben peggiore di questa ci sono state notevoli difficoltà la paura e doversi confrontare con la paura delle persone di cambiare di lasciare il certo per l'incerto anche se non si trovavano bene non avevano la forza di cambiare perché comunque un lavoro ce l'avevano una stabilità ce l'avevano e in un periodo di pandemia quando un sacco di aziende hanno avuto delle difficoltà passare ad una e chissà come andrà effettivamente ha fermato molte persone quindi anche lì abbiamo dovuto cambiare un po' lo stile comunicativo e anche il modo di fare selezione perché ci siamo ritrovati anche a dover rassicurare le persone del nostro contesto quindi non solo della solidità ovviamente dell'azienda che era la cosa principale che ci chiedevano ma anche del fatto che noi non abbiamo mollato neanche di un secondo e che quindi questa crescita questa formazione questa attenzione al dipendente paradossalmente è anche cresciuta ed è aumentata e questo abbiamo visto come ha creato nelle persone una certa confidenza e sicurezza nel contesto in cui poi eventualmente sarebbero stati inseriti come dicevo prima proprio dall'inizio dalla prima selezione dalla prima chiacchierata con me quindi ripeto non è detto che poi il profilo viene inserito ci piace comunque far passare questo messaggio un messaggio che aziende giovani e competitive sul mercato possono aiutare altre persone a crescere a formarsi ed effettivamente a trovare un posto nel mondo del lavoro ottimo molto bene Oriana scrive ritenete che lo smart working vi abbia penalizzato oppure favorito? ok allora siamo un'azienda di consulenza informatica quindi direi che come dire la gran parte dell'attività che facciamo è fatta appunto tramite computer tramite è un'attività fatta alla scrivania con il computer davanti quindi diciamo che il contesto che c'è intorno è quasi indifferente cioè lavorare da casa o lavorare in azienda di sicuro a livello pratico proprio operativo cambia poco cambia sicuramente a livello umano perché sia la difficoltà di vivere da soli il proprio momento quindi non avere 5 minuti per prendere il caffè con un cliente con il proprio collega della sedia accanto uscire a fumare una sigaretta oppure prendere quei 5 minuti di pausa che sicuramente possono servire noi in realtà eravamo già abituati allo smart working perché avendo sedi anche in altre città abbiamo dei team che lavorano in remoto con noi e quindi era diciamo uno strumento già oleato e già utilizzato ampiamente quindi abbiamo semplicemente rafforzato quello che era uno strumento già utilizzato e abbiamo avuto degli ottimi risultati non dovrei dirlo ma le persone con lo smart working lavorano un po' di più quindi a livello diciamo di interesse aziendale questo è stato positivo perché di sicuro abbiamo velocizzato molte delle attività abbiamo raggiunto più velocemente degli obiettivi però abbiamo dato la possibilità in un momento così difficile alle persone di poter stare in famiglia di potersi vivere meglio la famiglia il contesto familiare e quindi essere anche più tranquilli da tutti i punti di vista sotto tutti i punti di vista grazie grazie Oriana per la domanda c'è Federica che fa un'altra domanda buonasera per quanto riguarda invece la selezione di neolaureati destinati a far parte dell'ufficio HR quali competenze hard e soft ricercate la domanda che ti riguarda più da vicino esatto tra l'altro abbiamo concluso da poco la selezione proprio degli altri miei due colleghi che sono entrati a far parte dell'ufficio allora sicuramente un percorso di studi in linea sicuramente può aiutare ora sono rispetto anche a quando ho fatto io l'università ci sono dei corsi proprio degli indirizzi universitari proprio sulla gestione delle risorse umane quindi questo sicuramente aiuta da un valore aggiunto perché quantomeno da una panoramica generale di quello che vuol dire fare risorse umane poi è inevitabile che a un certo punto bisogna scegliere effettivamente a quale settore delle risorse umane dedicarsi importantissimi importantissimi sono questi master che adesso pulvano come come fiori appunto sulla gestione o proprio sull'ambito delle risorse umane anche quelli molto utili perché danno appunto una visione a 360 gradi del lavoro che si andrà a fare e quindi dei vari aspetti dando la possibilità alla persona di scegliere effettivamente in quale ambito delle risorse umane può dedicare la propria attenzione sulla parte soft allora che dire sicuramente empatia chiaramente l'empatia cambia a seconda del contesto in cui si lavora nel senso che lavorare per una società di recruitment che ha quello come focus rende l'empatia più ampia perché si cerca di attrarre più persone possibili e quindi poi di ricollocarle nel mondo del lavoro quando si lavora in un'azienda si guarda prima all'interesse aziendale quindi alle persone che andranno a lavorare all'interno dell'azienda quindi l'empatia a un certo punto si ferma però alla parte hard e quindi alle caratteristiche che effettivamente una persona deve avere e quindi poi alla parte soft ho un'ottima comunicazione una predisposizione alle persone quindi a potersi relazionare anche a diversi livelli perché è molto facile parlare con una persona che lavora da 20 anni è molto difficile parlare con un ragazzo appena diplomato o laureato che non ha ancora ben chiaro cosa vuole fare da grande quindi bisogna cercare anche di capire come indirizzarlo o provare a fargli capire effettivamente poi cosa voglia fare dopo queste direi le caratteristiche fondamentali richieste per questo lavoro almeno questo per la mia esperienza ovviamente certo sì vi permetto di provare sempre a teorizzare teorizzare non è che è una grande teoria però riflettere sul fatto che nel contesto di lavoro c'è sempre questo equilibrio molto delicato tra il task e la relazione è un contesto nel quale volenti o nolenti dobbiamo avere a che fare gestire la difficoltà del fatto che all'interno di un contesto lavorativo bisogna raggiungere un obiettivo raramente questo obiettivo dipende soltanto da noi ma dipende anche da altre persone e quindi questo ci porta a sviluppare delle relazioni con dei colleghi fermo restando che poi insomma in tante teorie psicologiche si ritiene che il lavoro sia la massima espressione dell'essere umano e quindi si sviluppino delle relazioni che permettano la nostra espressione quindi la difficoltà di penso di tutti voi di persone come qui ne abbiamo a rappresentanza Libia ma tutte le persone che si occupano di esciare in azienda hanno un ruolo a mio modesto parere poi sono di parte però molto delicato perché permettono alle persone di esprimere se stessi che è la più grande fortuna che ognuno di noi ha venendo venendo al mondo quindi Libia con tutte le difficoltà che anche prima del covid c'erano cioè quello di creare le condizioni affinché le persone esprimano se stesse io l'ho sempre mi è sempre piaciuta tantissimo la metafora di un giardiniere è un giardiniere che deve trattare con estrema cura questi piccoli semini che sono le persone che gestisce e per cercare di creare quel contesto quel terreno fertile affinché questi semini possano germogliare e esprimere tutta la loro forza e bellezza quindi deve cercare l'umidità giusta il sole giusto il terreno giusto innaffiarli concimarli poi però non può fare tutto da sola c'è anche poi anche tutta l'altra parte Piera scrive sentire la conferma sulla difficoltà di riferimento delle figure professionali in ambito IT soprattutto quelle valide mi fa sentire meno sola pertanto grazie lavoro anche io come recruiter in un'azienda di consulenza informata e c'è una cosa che mi chiedo e chiedo spesso data la mia formazione ovviamente non tecnica c'è un modo a prescindere dal fare colloqui a similare il linguaggio tecnico per noi recruiter per renderci ancora più credibili ad esempio corsi di base che parlano di programmazione senza ovviamente la necessità di diventare dei programmatori scusate la domanda è lunga assolutamente no non ti preoccupare Piera penso che Libia penso sia la persona più adatta non so Romina te come sei messa il linguaggio di programmazione però io ho fatto il tecnico industriale però sei rimasto un po' indietro quindi se tu sei d'accordo lascerei la parola a Libia ok allora io sono un avvocato quindi come ben potete immaginare i linguaggi di programmazione non sapevo neanche cosa fossero e sono entrata cioè quando ho deciso di diventare insomma di entrare in uno delle risorse umane sono entrata direttamente in Florence quindi direttamente mondo tecnico estremamente tecnico con linguaggio tecnico tutte cose che io ovviamente non avevo mai visto lo spunto assistere ai colloqui e imparare il linguaggio tecnico è fondamentale però fare solo questo magari c'è il rischio di imparare a memoria un po' quelle che possono essere i vari linguaggi cos'è Java PHP .NET se si sentono nei colloqui successivi di sicuro si è in grado di poterli raccontare e quindi dire ad un candidato che in azienda noi facciamo Java però questo non basta perché purtroppo c'è ancora un po' di reticenza nei confronti delle risorse umane quando si fa il colloquio con le char tutti si aspettano che le char racconti l'azienda faccia le classiche domandine da risorse umane e che poi passi tutta la palla passi diciamo all'approfondimento tecnico questa cosa ovviamente avviene anche qui in Florence la seconda parte della selezione è totalmente dedicata ad un approfondimento tecnico ma già nella prima fase della selezione siamo assolutamente in grado di fare domande tecniche e capire se quella persona possa essere adatta al nostro contesto questo perché non lanciamo a caso parole tecniche ma c'è un profondo studio alle spalle di preparazione ai colloqui non personalmente non ho mai seguito un corso di programmazione anche perché non esiste un corso di programmazione generico i corsi di programmazione sono già diretti a spiegare come si programma il linguaggio ad oggetti e quindi tutto quello estremamente tecnico che nessuno si aspetta da noi noi non siamo venuti a fare però confrontarsi con i responsabili confrontarsi con le persone che lavorano e soprattutto con le persone che stanno cercando aiuta particolarmente a capire cosa serve e a cercare di spiegarti in termini molto alti anche il contesto in cui la persona viene inserita quindi parlare proprio con le persone che stanno cercando quindi con i propri responsabili con i ragazzi dei team perché loro sono sicuramente in grado di spiegare in termini basici un po' quello che effettivamente stiamo cercando e quindi aiutare noi poi a trasmettere quelle caratteristiche tecniche che cerchiamo nella persona quindi i linguaggi i corsi proprio di programma per diventare programmatori sono troppo specifici ripeto il recruiter non è chiamato a indagare nello specifico quale sia il background tecnico però saper leggere un cv leggerlo prima di affrontare un colloquio e quindi chiedere internamente delle parole specifiche dell'UMI su quello che c'è scritto nel colloquio per capire già se quella persona possa essere utile o meno all'azienda può aiutare anche a fare le domande e quindi a ricevere la risposta giusta grazie Lidia Cristina che tra l'altro saluto non perché sia un parente abbiamo lo stesso cognome ma è un caso di pura omonimia ho avuto il piacere di conoscerla in altri progetti chiede abbiamo detto di porre attenzione a chi ci sta davanti soprattutto per la relazione Z o Alfa che ne pensate del video CV non so se tu Lidia ne hai fatto uso io dal mio punto di vista poi magari anche Romina può assolutamente dare il suo secondo me ci sono tutta una marea di strumenti assolutamente innovativi e diversi che posizionano l'azienda prima Lidia nel suo intervento ha parlato anche un po' di quello che viene chiamata brand identity cioè nel senso di come anche l'azienda il brand o la brand reputation viene percepita dall'esterno quindi sempre di più anche il periodo la fase di di selezione è un momento nel quale fare brand identity brand reputation employer branding cioè tutto è molto fluida la situazione quindi benvengano questi strumenti ci deve essere a mio avviso semplicemente una strategia ecco la parola chiave quando si utilizzano questi strumenti è avere in mente una strategia cioè se il video CV è all'interno di una strategia più ampia per me benvenga perché comunque il video CV deve essere visto se ne abbiamo cento da guardare ci vuole un po' di tempo per guardarli poi i video CV nel senso che ho fatto poi anche una considerazione molto pragmatica scusatemi se scendo molto sul terra terra però poi questi strumenti devono essere utilizzati il video CV deve essere poi visto in qualche modo deve essere analizzato deve essere strutturato un po' come diceva Libia cioè se io ho fatto un CV cartaceo comunque me lo devo leggere quindi pensare poi a tutte le attività collaterali che ci sono e soprattutto poi anche a un match il video CV è lo strumento adatto per quel tipo di ruolo che sto andando a ricercare sì no non lo so dipende io non ho la risposta però a mio avviso cioè sul mercato ci sono veramente tantissimi strumenti tantissime metodologie delle più variegate quindi per me parola chiave strategia se c'è la strategia va tutto bene non so Libia se tu hai avuto esperienza diretta di video CV poi vedo che è arrivata Valentina stiamo andato abbiamo sforato però ma al solito io il dono della sintesi non mi contraddistingue scusa Vale hai il dono della passione perché si percepisce ti appassiona talmente tanto che è difficile contenerti poi mi fai diventare rosso diventi in pandan capito scusa Libia questo sta gag fra me e Valentina tranquillo no allora devo dire la verità noi qui non li abbiamo mai ricevuti e ovviamente diciamo non c'è una richiesta specifica di un video CV questo perché perché io chiaramente porto la testimonianza in merito a profili che sono abituata a selezionare e i nerd non fanno piacevolmente il video CV per farli parlare a volte ci vuole veramente tanta pazienza quindi è meglio un pezzo di carta quindi il CV e poi una chiacchierata di Tavi motivo per cui a cose normali noi preferiamo sempre i colloqui di persona li invitiamo qui in azienda e parli di persona e in questo caso sempre ovviamente con la camera accesa perché anche chi ha molta difficoltà una domanda posta in maniera gentile una battuta un sorriso sicuramente aiuta la persona ad aprirsi a raccontarsi meglio il video CV per i profili che seleziono io sono un po' finti perché uno forzatamente sa che adesso le aziende valutano anche la parte soft e quindi forzatamente si rende simpatico forzatamente si rende attivo giocoso ma poi insomma si percepisce quindi rischia anche di essere escluso perché il video non è venuto bene o perché si percepisce l'atteggiamento un po' finto nel presentarsi quindi molto meglio due chiacchiere dal vivo sicuramente ottimo io se può servire appunto a Cristina sottolino sicuramente vallo quello che ha detto Libia su tanti aspetti anche quello della non istantaneità io ne ho fatto uso diciamo dello strumento del video CV in passato ma rispetto a una specifica campagna e qui invece mi riallaccio al concetto di strategia appunto cui faceva dal punto di vista assolutamente correttamente Emanuele quindi era una campagna specifica che aveva dei requisiti delle condizioni diciamo di partenza ben specifiche e definite per cui ritenemmo opportuno e utile anche sperimentare questo strumento chiaramente richiede una preparazione una preparazione a monte di domande da caricare richiede un'analisi molto attenta del target a cui ci si rivolge e anche appunto delle numeriche che poi presumibilmente si andranno ad affrontare quindi sì lo strumento ci può stare oggi più che mai perché appunto la varietà oggi è assolutamente un valore anche in termini di strumenti adoperabili però ecco veramente con le idee chiare rispetto a questo di uso e poi rispetto a Piera invece anch'io mi aggancio perché comunque anch'io che ho fatto ho avuto anche un percorso giuridico e poi mi sono trovata per lungo tempo a selezionare anche profiletti fondamentale come diceva anche Emanuele le domande cioè il porsi in maniera davvero interlocutoria in ascolto rispetto ai responsabili di linea perché veramente lì si innesca un processo osmosico per cui almeno quei macroconcetti che sono necessari e sufficienti ad affrontare lato risorso umano il colloquio si possono davvero acquisire e si possono poi governare con efficacia Ottimo allora se io qui abbiamo ampiamente sforato quindi dovrevo semplicemente personalmente ringraziare per il tempo che ci avete dedicato e sottolineare un ultimo aspetto cioè che tutte queste cose di cui Livia vi ha parlato Romina io sono tutte sempre nella metafora del giardiniere nel lungo periodo cioè che permettono alla pianta di crescere rigogliosa e forte e poi di poterne mangiare i frutti è ovvio che se noi ci aspettiamo nell'immediato di ricevere indietro un ritorno non è così immediato non possiamo pensare che una piccola piantina di giro di qualche mese possa darci il frutto dobbiamo cercare lì essere costanti crederci andare avanti con come diceva Romina in apertura con professionalità con metodo con dedizione con strategia essere convinti che quella pianta crescerà e che darà i suoi frutti e poi dopo però una volta al regime tutti gli anni quella pianta dà i suoi frutti cioè cresce bella forte rigogliosa verde poi ci possiamo mettere sotto la pianta ci possiamo godere il fresco d'estate insomma diventa una cosa molto importante all'interno di un'azienda quindi il mio modesto parere ecco anche dare avere un po' questa vision un po' più di ampio respiro di non voler tutto e subito che ahimè capisco perfettamente che i tempi che corriamo invece sono esattamente nel tutto e subito io questo lo comprendo però forse cerchiamo di trovare meno una via di mezzo ecco mi è da dire in qualche modo quindi io ringrazio come al solito Giobbando per Queen per aver creato questo spazio-tempo sempre molto prezioso e interessante e lascio la parola alla padrona di casa Valentina e Romina sì io ringrazio voi a chi è stato con noi vi ricordo che comunque questo intervento verrà post prodotto e poi reso pubblico sui canali social di Giobbando quindi qualora vogliate riascoltarlo riapprofondirlo anche in modo asincrono a breve questo sarà possibile vi do appuntamento all'ultima settimana di maggio con il la seconda puntata della Giobbando Academy Corporate che come introduceva Romina Masolini sarà invece dedicata al processo dell'induction e dell'onboarding che dire allora buona serata a tutti e grazie ancora grazie a tutti ciao ciao grazie a tutti ciao ciao grazie grazie a tutti